Abbiamo finito questo incontro, abbiamo letto la circolare del Ministro, abbiamo ascoltato le parole della Regione, siamo stati rassicurati sul fatto che al momento la situazione è tutta sotto controllo, l'hotel ha già riaperto, direi di evitare inutili allarmismi. Continuiamo a rimanere comunque in contatto con la Regione e con il Governo, per cui ogni aggiornamento sarà dato. Il Comune ha previsto misure specifiche? Non ci sono state richieste, per cui veramente è tutto molto, ci è stato detto che è tutto sotto controllo. Preoccupazione da parte vostra per i casi che si sono creati? In questo momento i casi sono allo Spallanzani, sono anche loro monitorati H24, lo stesso ospedale ha rappresentato una situazione tranquilla. Grazie. Ribadisco, evitiamo in questo momento inutili allarmismi. Grazie.